Fervono i preparativi per rendere la stagione estiva sempre più appetibile nel bacino turistico di riposto che sta mettendo a punto un calendario ricco di eventi culturali, regate belliche, spettacoli di moda, arte ed enogastronomia. Si partirà già questo weekend con i casting gratuiti per modelle e modelli dai 15 ai 27 anni in programma domani dalle ore 10 alle ore 17 ed anche per i bambini dai 5 ai 13 anni in agenda domenica 10 aprile al porto dell'Etna grazie all'agenzia di moda Grimm Eventi di G. Claudio Magazzu. La presentazione alla stampa dell'evento di moda coordinata dalla giornalista Patrizia Tirendi è stata ospitata stamani al Circolo Velico. Grazie ad una sinergia avviata tra l'agenzia Grimm Eventi con l'istituto Majorana Sabini di Giarre diretto dal dirigente scolastico Monica Insanguine e rappresentato dalla docente Giussi Raciti si è svolto un interessante incontro sul tema moda, make-up, arte e bellezza. A relazionare sul tema si sono alternati gli art director Grimm Eventi Gian Claudio Magazzu e Roberto Impellizzeri. La make-up artist Simona Di Mauro, l'attore Fabio Bocca, il fotografo Egidio Ligera, la Wendy Planner Rossella Lanzafame, l'art stylist Club Aregò, i modelli Alessandro Nicolosi, finalista nazionale del concorso Il Più Bello d'Italia e Jessica Marano che parteciperà alle prossime selezioni di Miss Italia. Oggi siamo qui al porto di riposto per una conferenza stampa dedicata alla moda, ai casting. Soprattutto oggi interverranno con noi l'istituto di moda Lipsia, qui accanto a me infatti c'è la professoressa Raciti che dopo parlerà sicuramente. Oggi parleremo soprattutto di questa sinergia che stiamo collaborando con l'Ipsia di Giare per quanto riguarda moda e casting. Verranno selezionati i ragazzi per lavorare alla Grimm Eventi dove la Grimm Eventi porterà i ragazzi selezionati al mondo della moda a livello sia nazionale che non. È sembrato un progetto abbastanza valido, anche perché così diamo alle nostre alunni la possibilità di ampliarsi, di realizzarsi e perché no? Perché questo è il campo della moda, è un campo abbastanza vasto e dà anche delle possibilità. Abbiamo, certo non tutti i ragazzi sono brevissimi, però abbiamo abbastanza... Carne nel fuoco. Sì, ci sono abbastanza elementi molto validi e quindi penso che questa sinergia che c'è è una cosa valida sia per la scuola e anche per i ragazzi, dando questa possibilità ai ragazzi di intraprendere questa strada. Come ogni anno abbiamo un calendario ricco di eventi, quest'anno abbiamo puntato più sulla moda per dare anche la possibilità ai giovani di farsi conoscere, di farci conoscere e soprattutto di ospitare un evento così caloroso come questo.